Buongiorno, oggi sui giornali ci sono due storie che andrebbero sottoposte ai nostri immigrazionisti, cioè quelli dei porti aperti che si stracciano le vesti se le navi ONG non possono attraccare i nostri porti, ma in compenso se ne sbattono della sorte della gente e degli immigrati che si trovano sul nostro territorio. A Milano, uno iemenita di 23 anni, radicalizzato, già segnalato dalla polizia tedesca, ha aggredito un militare italiano con un paio di forbici gridando Allah Akbar, Allah Akbar. La ferita per fortuna è lieve, l'uomo è stato fermato, del tutto normale non è perché ha affermato di sentire delle voci che lo hanno spinto a compiere il gesto, ma qui c'è comunque una storia a suo modo esemplare. Questo uomo è arrivato in Italia, ha proseguito il suo viaggio in Germania, in Germania è stato segnalato come radicale islamico, è stato rispedito in Italia sulla base del trattato di Dublino e in Italia appunto ha aggredito una persona. Qui è un insieme di cose, c'è il radicalismo ma c'è anche la disperazione. Sentite cosa ha detto l'uomo iemenita in centrale, in questura. Volevo raggiungere il paradiso di Allah. Quando ho aggredito il soldato, sto leggendo dal Corriere della Sera, ero sicuro che sarei stato ucciso ed era quello che cercavo, io volevo morire. Non avevo più un soldo, non mangiavo da giorni, per tre notti ho dormito per strada, la mia vita è andata in malora e per questo ho scelto di farla finita con una sorta di riscatto cercando il paradiso. Se questo non bastasse, accanto, sempre sul Corriere della Sera, troviamo un'altra storia che fa caponare la pelle. Abbiamo visto nelle settimane scorse come la schiavitù si è stata reintrodotta nelle campagne grazie all'enorme manodopera a costo zero, o quasi, offerta dall'immigrazione selvaggia. Ma il capolarà, il capola, caporalato, non esiste soltanto in campagna, esiste anche per le strade della nostra città. Infatti è venuto fuori che, avete presenti i ragazzi che consegnano il cibo e altre cose nelle nostre case, ecco, molti di loro sono clandestini che comprano da immigrati regolari o da italiani l'applicazione che serve per svolgere quel mestiere, cioè i rider hanno un'applicazione che genera codici che ti permettono di sapere chi è il cliente e dove devi andare in sostanza. Se non hai l'applicazione non puoi lavorare. Il clandestino ovviamente non ha i documenti in regola, l'applicazione legalmente non la può avere e dunque la compra, la compra, la paga anche salata. Di fatto è a tutti gli effetti uno schiavo viene sfruttato e la cosa incredibile, grave, che si aggiunge a quello che abbiamo già detto, è che questi fanno un lavoro pericoloso. Nelle grandi città rischiano ogni giorno di essere tirati sotto, anche per colpa loro, visto che ne fanno di tutti i colori, attraversano con la bicicletta dove non potrebbero andare, sensi vietati non esistono e così via, ma non è questo ovviamente il punto. Il punto è che se gli succede qualcosa non possono nemmeno chiamare l'ambulanza perché altrimenti vengono identificati e quindi qui abbiamo un lavoro sottopagato in nero che non gode di alcuna garanzia. Chi elogia i porti aperti forse due domande dovrebbe farsene, cioè se questo è quello che possiamo offrire forse sarebbe meglio regolarla l'immigrazione.